Bene, ci troviamo a Torre Maggiore dove la coalizione a guida centro-sinistra, il Campolargo, ha dato di nuovo fiducia al sindaco sciente Emilio Di Pumpo, che sarà candidato di nuovo per il secondo mandato anche alle amministrative 2024, nelle date dell'8 e 9 giugno. Ecco, la vostra città negli ultimi anni è in grande fermento, parte da una storicità dell'agricoltura, ma si sta ampliando anche ad altri settori. Come penserete di essere il traino dell'economia del territorio? Sì, buonasera. Innanzitutto ringrazio tutte le forze politiche, tutta la compagine politica che ha deciso di ripuntare sulla mia candidatura, così come i nuovi ingressi a sostegno di questa coalizione. Abbiamo lavorato per cinque anni interrottamente, Torre Maggiore non vedeva una campagna di finanziamenti così importante da diversi anni e questo è stato il primo punto forte di questa amministrazione, lavorare incessantemente e credere su tutti i progetti che sono stati realizzati e sui quali si è deciso di investire. Non a caso abbiamo una ottima media realizzativa, abbiamo recuperato quasi tutti i finanziamenti, se non tutti i finanziamenti richiesti, siamo in attesa di qualche altra conferma. Quindi come avete potuto vedere anche voi la città è in grande fermento, lavori, diversi cantieri, che anzi chiedo anche scusa ai cittadini per qualche disagio, ma purtroppo sono disagi da vivere. Siamo stati fermi per troppi anni, abbiamo dovuto lavorare sodo, i risultati si vedono, ci stanno premiando e noi siamo contenti di ciò. Certo, creare quindi nuove infrastrutture e migliorare le infrastrutture non può che favorire anche l'accesso e l'avvenimento di nuove realtà che possono e potrebbero far crescere il nostro territorio, il nostro comune, così come anche l'intesa con i comuni limitrofi. Abbiamo sempre cercato di curare in maniera ferma e incessante i rapporti con tutte le altre amministrazioni comunali, al di là dei colori politici. Non ci siamo mai soffermati su questo perché crediamo che i rapporti istituzionali abbiano altri livelli e non si debbano fermare appunto all'appartenenza politica, ma debbano pensare solo ed esclusivamente ai territori, a far crescere il nostro territorio che in maniera più ampia è la capitanata in tira. Quindi non ci resta che dire rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti.